Buongiorno amore, fatti vedere, ma sei bellissima, ma sai che mi piace tantissimo fettinata così? Senti, ricomincia la scuola, vero? E come la ricominciamo la scuola noi oggi? Con il saggio di musica Oh, tu oggi avrai il saggio di musica, la mamma ti viene a vedere Buongiorno, sei stanca, ieri sera siete andata a dormire un po' tardino Senti, ma se dovessi riuscire a portare Aria e Isabella, tu sei contenta? Eh? O ti vergogni? No Va bene? Vuoi che le porto? Va bene, dai, poi chiedo sul gruppo quante persone possono venire, eh? E al massimo le vado a prendere E poi andiamo a prendere Vanessina, va bene amore? Sì E allora adesso vi porto a scuola e ci vediamo dopo, ok? Buona scuola amore, buon rientro dopo le vacanze Grazie Buongiorno amore, ciao Allora, come abbiamo detto prima io e Anastasia, oggi c'è il saggio di musica di Ani E se riusciamo verrai anche tu, tu uscirai in pausa pranzo e poi non rientrerai più Così pranziamo con Isabella e Ari e poi andiamo a fare la visita, ok? Ok Va bene? E poi se riusciamo ti porto anche al saggio di Anastasia Eh? Allora buona scuola, anche a te buon rientro Grazie Ah, ragazzi, dobbiamo salutare quattro persone che ti sono abbonati al nostro canale È vero Che si chiamano Kim, Aurora Stitch, Miki e Ciao Ciao, grazie Sono uscita da scuola perché adesso vado al Burger King a mangiare con Ari e Isabella Sono felicissima E poi vado a vedere l'Aria in città di Anastasia, ci vediamo dopo Buongiorno, ciao Ciao, ciao Aria Ciao Come stati? Bene Bene? Avete fame? Sì Andiamo a mangiare, aspettiamo la mamma? Eh? Andiamo a mangiare Muovati Isabella Aria? Cosa ho detto? Muovati Aria, are you hungry? Sì Sì? Va bene, allora scendiamo Eh? Buon appetito Mmm, che fame anch'io Arietta? Ciao amore Capitano Aria Hai comandi Buono amore Cos'hai preso? Quello con il chicken? Il pollo? Fa male l'occhio Fa male l'occhio Eh, dopo vediamo, eh Siete scappate Che bello Non vi ho più viste Action Ci sono, Vanessa? Sì Quali? Sto cercando Blu Guarda queste No, non sono belle Le sue sono belle perché sono la French Eh Vero? Le tue sono French Queste Queste sì sono carine Secondo me Però Dici? Le compriamo online, va? Ci facciamo dire dalla zia se ti piacciono queste? Sì Ok Allora Abbiamo lasciato Isabella e Aria Perché dobbiamo andare da Anastasia a vedere il suo saggetto E cosa hai comprato? Siamo riusciti ad andare anche a un store E questi Sono così Non li voglio assaggiare perché li assaggio dopo Ma adesso Qui c'è cosa c'è? Una challenge? Sì Devi indovinare il gusto? No Devi Perché Sono tre gusti aspri Non lo so Dai Proviamo Veloce che dobbiamo andare Decidi Verde Il mio colore preferito Decidi No è la mela Eh va bene Buona mela Che poi secondo me li abbiamo già assaggiati questi Vai No io non lo Ah vuoi farmi Vabbè dopo vai No? E concludiamo la challenge così? Ma dai Veramente? Ma no Pensavo fossero Contenta di provare queste schifezze? Vanessa è una macchina Ma così Asaglia Schif house Ma ragazzi Ma cosa ci vorrà mai A assaggiare una cosa Forza di imballo Di plastica Che schifo Ma perché compri queste schifezze? Devi rovinare lo stomaco a dieci anni? Sì Cos'è che ti vuoi mettere? Fai a vedere cosa hai comprato all'action Ah no Vabbè ma forse l'abbiamo già fatto vedere Ascolta Guarda che queste unghie Sono quelle che poi Non si staccano Te lo ricordi? Abbiamo fatto anche un video Su queste unghie E piangevi Perché non riuscivamo più a staccarle Fammi capire Se tu le metti E poi devi andare a scuola Come fai? Se non si staccano? Beh Mi taglio Rimani Te le tagli Va vedere Ma no Ma si che si stacca Ce la colla Perché io ne ho messa tanta Vedi? Bene stai attenta Che poi piangiamo Anche tu No io no Te le tieni Oh no Cosa? No no Cosa? Guarda che bello Ma sono di plastica Vedi che cosa pensavi Che fossero di unghia Veramente Oh my god baby Vabbè Vediamo Sono lunghe però Oh Ma sono lunghissime Le devi tagliare Ma si le taglio Ma secondo te Ma sono lunghe Quelle di Isabella Sono corte Ma guarda che non sono lunghe Come non sono lunghe? Ma sei matta? Vabbè Comunque siamo fuori Dalla scuola di Anastasia Cioè delle medie Dove lei farà appunto La recita La recita? Ed è la tua scuola Del prossimo anno Ma che bello Ma sei pazza? Mi stanno perfette Laga Wow Ma che ti stanno perfette Le dobbiamo tagliare Ma no Ma mi fai vedere Mi tagli i capelli tu Io sì Devo farlo Guarda Ma tu sei matta Ma tu sei matta L'unghia deve stare a filo del dito Ma le sono lunghissime No sono lunghissime invece Ma le di Isabella sono a filo del dito Sono per bambini Queste non sono per bambini eh Ti stiamo vedendo eh Sì che bello Cucciolini Ma scrivete nei commenti a Vanessina Che quelle unghie sono troppo lunghe E che vanno tagliate Ma non me le taglio io Io già non le faccio crescere Figurati se me le taglio Comunque scrivete nei commenti a Vanessina Che deve tagliare quelle unghie Se no non le mette Allora Vanessina Siamo arrivati Qua prima Un uccello Disciete sul sentiero Non sapeva di essere estremato Con il becco L'ombrico Lo segno è da Cip, 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 cip Non si è probato E la sua volta Non si è probato Ma è quasi un po' Il tempo passa e non torna più e tic e tac, tic e tic e tac, tic e tic e tac, tic e tic e tac, il tempo passa e non torna più e tic e tac, tic e tic e tac. Ciao amore, bentornata, ma come sei stato bravo amore, sai che questo maestro mi piace tantissimo? Sì, è veramente bravo, le sue canzoni sono troppo belle, simpatiche, allegre proprio per bambini e tu sei stata bravissima, ti sei divertita? Sì, allora andiamo a prendere Isabella e andiamo in oratorio, hai voglia di giocare in oratorio e far merenda? Così chiediamo anche quella cosa lì per cambiare parrocchia per catechismo se possibile, andiamo, va bene? Tu stai mettendo le unghie, oh Vane, guarda che se non si staccano domani vai a scuola con le unghie lunghe. Ciao! Allora facciamo merende in attesa che arrivino Isabella e Ari, ok? Sei stanca amore? Sei molto stanca, mi sa, vero? Stasera andiamo a dormire prestissimo, eh? Non voglio scuse, così domani siete un pochino più riposate. Allora Vane andiamo a vedere se riusciamo a cambiare catechismo? Sì, sei contenta se dovessimo riuscire? Sì, dove vai? Speriamo di farcela. Isabella non hai freddo tu, vero? Ok. Cena a casa della nonna Elisa e del nonno Silvio, buon appetito! Aria, hai provato? No? Oh! Cos'è? Io chiedo se sei stanca. Isa, buon appetito! Isabella apre l'uovo di Pasqua che ha ricevuto a Pasqua dal zia Romina. e si può vincere una crociera. Vai Isa, dai che andiamo in crociera. Ciao amore! Crociera, crociera. Vai Isa che andiamo in crociera. Oh, che bello! Sì, bello. La gallina dalle uova d'oro. Anche Daniel, te lo ricordo. Sì, è vero, anche Daniel. Vanno in crociera Isabella. Wow, bellissimo amore! Ah, così si mangia l'uovo. Vai! Cosa? No! No! No, non è vero. Sì, c'è spingi. Isa, bello! Signore, mi piacere! What happened? What did you get? She's the right, she's on a cruise. Where's Monkey Man? She's on a cruise with Monkey Man. Hi, Monkey Man! Oh, mamma mia, Isabella! Devi grattare? Ah, con il QR code? Con il telefono? Sì! Che buono, amore! È buono! Che bello, amore! Qua sì! È una... Paper? With pen. No! Allora, non abbiamo vinto, però dobbiamo conservare la cartolina, perché c'è un'ulteriore estrazione a luglio, ok? Ma non è finita, manca ancora Daniel, però. È vero, anche noi abbiamo un altro con Daniel. Vuol dire che faranno un'altra estrazione e potrebbe essere estratta questa cartolina e vincere comunque la crociera. Se Daniel vince! Se Daniel vince! Vai in crociera! Che bello! E noi lo guardiamo, lo salutiamo. Ciao Daniel! Dai, l'anno prossimo! Allora, Isa, noi andiamo a dormire, che domani noi andiamo a scuola. Ci vediamo domani pomeriggio, va bene? Che andiamo a trovare i nonni, ok? Buonanotte! Ciao, amore! Ciao! Ciao, Aria! Good night! Ci vediamo domani? Che ora domani? Alle 5 quando uscite da scuola, ok? Sì! Allora, siamo tornati a casa. Che cos'hai, Vanessa? Ti brucia l'occhio? Eh, non so, amore. Adesso mettiamo un po' di... Anche sai che cosa? Sai l'acquetta che serve per sciacquare il naso? Con quella puoi anche sciacquare l'occhio, ok? Poi ti metto delle goccine solo rinfrescanti di collirio, va bene? Allora, domani... Ma sono sì rinfrescanti. Domani è altro giorno? Vi faccio venire a prendere fuori da scuola da Isabella e Aria. Eh, amore, contenta? Ok? Dai, che poi loro ripartono. Lunedì, però. Abbiamo ancora qualche giorno per stare insieme. Eh sì, perché... Poi anche loro devono rientrare a scuola. Pocciolini e pociolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. E ragazzi, abbonatevi al canale se volete fare una diretta oppure essere salutati da noi. Ciao! Adesso sono uscita da scuola per andare a rinnovare la carta di vita. Dopo avremo delle commissioni da fare. E con Ani, quando ci sarà anche lei, vi diremo una cosa che venerdì faremo. Ma adesso... Ad avanti, ciao! Amore, togliamo il grembiule perché dobbiamo andare a fare la foto per la carta d'identità elettronica. E poi pranziamo, poi facciamo una commissione, poi ci vediamo oggi con onostosia e sveliamo una cosa bellissima. Quanto sei contenta tu? 1580 milioni di milioni di miliardi 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 di miliardi. Quelli che stai studiando, insomma. Allora, cucciolini, siamo in comune e Vanessa si sta preparando per fare la fototessera. Ma visto che eravamo in anticipo, siamo passati da Zara per fare un piccolissimo shopping che adesso vi farò vedere. Guardate. Uno e due stracone di tutti. Sì, esatto, tutti i tuoi. adesso vai a fare la foto per favore perché abbiamo il numero già prenotato dai, metti i soldini abbiamo perso il turno e quindi speriamo che adesso ci fanno passare ho fame tu? adesso andiamo a pranzo allora amore, carta d'identità fatta adesso dobbiamo solo attendere che arrivi a casa hai il singhiozzo? sì adesso siamo al ristorante mangiamo e torniamo a scuola perché questa uscita mi è costata un botto la prossima volta la carta d'identità la facciamo in videochiamata ok? tra cinque anni è quasi finito ma ci dedichiamo anche questo momento di dolcezza e di golosità con un buon gelato alla Nutella guarda Vanessa quando Anastasia vedrà questo video secondo me non ci rivolgerà più la parola per i prossimi due mesi che bello dai che andiamo a scuola è buona? pranzo finito hai messo il grembiule adesso ritorni a scuola fino alle quattro e mezza e ci vediamo dopo con Anastasia ok amore? ok e poi svegliamo la nostra super sorpresa cucciolini ho portato Vanessa a scuola e sono tutti al parchetto e guardate un po' chi c'è guardate un po' chi c'è la mia bambina ciao ma come stai amore? sai che ti ho comprato delle cosine da Zara? poi stasera ti le faccio vedere ok cucciolini pausa pranzo finita ma avete visto quel carino anche Anastasia che giocava al parchetto con i suoi compagni adesso però è giunta l'ora di andarli a riprendere a scuola quindi dobbiamo portare Anastasia un attimino dalla pediatra per fare una visita e poi vi svegliamo il nostro super segreto siete curiosi? scrivetemi nei commenti se siete curiosi allora ragazzine mie ciao bentornata Vanessa ciao amore mio mangia pure tua merenda non ti preoccupare siamo arrivate dalla pediatra allora Ani abbiamo detto ai nostri cucciolini che dobbiamo dire una cosa speciale oggi però ancora non lo diciamo quello che dobbiamo fare a casa dopo no ma veramente eh sì veramenteissimo oggi è una giornata super impegnativa non oso immaginare domani se tu riprendi me io mi vedo allo specchietto ah sì? ti vedo allo specchietto è vero niente andiamo dalla pediatra perché poi dobbiamo andare a prendere le torte perché Vanessa domani deve portarle a scuola perché è il suo compleanno ma cosa ha? è fuori andiamo dai Ani sei contenta? sì è quello che dobbiamo fare dopo? sì ok andiamo che poi dobbiamo andare a prendere le torte per te mannaggia esatto auguri domani eh mi raccomando mai gli auguri prima ok ok allora visita finita benissimo andiamo a comprare queste tortine e poi corriamo a casa perché si sta facendo tardi dove sei? quindi tu devi prendere le torte anche da bere sì ma non troppo eh Vanè ah ok allora dai Vanè pandistelle e? e poi questa? no con le albicocche no? no perché il mio compagno è allergico al cioccolato ma chi? Daniel è allergico al cioccolato? Daniel? sì la pandistella è tutta cioccolato? eh infatti allora la torta è questo? la ciambella buonissima ok ciambella quindi? bravissima e adesso andiamo a prendere da bere perché poi andiamo a casa che sono distrutta ok? allora siamo tornati a casa qua ci sono le bevande e il cibo che Vanessa domani porterà a scuola perché tra poche ore questa signorina compie dieci anni dai ragazzi vuoi far vedere cosa abbiamo comprato per domani? Anastasia sgranocchia sempre e fame amore però non mangiare più che dopo ceniamo dai i bicchieri i bicchieri molto importanti ovviamente vediamo con le mani e la ciambella la ciambella perché perché sì perché il mio compagno è allergico al cioccolato allergico al cioccolato e per lui c'è allergico al cioccolato un pan di sella intero questi sono per la merenda vostra le lettere le lettere amore o i numeri? i numeri ho capito le lettere? no c'è anche lo zero il numero dieci e i tovagliolini rossi red red a proposito di red Anastasia vieni qua che dobbiamo dire una cosa a proposito di red no lo diciamo insieme domani con quel sacchetto metti le bevande solo le bevande amore perché tutto è troppo va bene stavamo dicendo no ma le bevande adesso Vanessa mettile in frigo eh cosa le lascia fare? no mettile in frigo che si raffreddano poi domani mattina ce le ricorderemo muoviti che dobbiamo dire una cosa importantissimissima ora facciamo vieni Vanessa aspetta vieni fino a dieci e le diciamo vabbè vedi con tua sorella allora a proposito di red perché abbiamo parlato in inglese? perché? dove andiamo? ci facciamo le moligie per andare dove? in terra dove? in inghilterra da chi? da l'inghilterra sì sì si parte per l'inghilterra andiamo da Isabella e Aria e festeggeremo anche lì il tuo compleanno quindi venerdì partiremo ragazze siamo super contente perché dovete sapere cucciolini quante volte siete stati in inghilterra da Isabella e Aria? uno due esatto esatto perché c'era c'è la storia del passaporto e noi il passaporto non lo avevamo adesso lo abbiamo e si parte siete contenti? domani si parte non è vero domani è il tuo compleanno giovedì si va a scuola e venerdì si parte due ragazzi dobbiamo andare a preparare gli zainetti andiamo? a proposito quando ti parli Giulio a proposito calma no amore tu non ti devi agitare a proposito di te Anastasia è stocco se non ti porto andiamo a vedere che oggi ti ho comprato alcune cosine ho messo sul letto tutto quel Anastasia quasi quasi la lasciamo a Novara che dici con il nonno che non viene ah ma con chi partiamo? con Daniel e Daniel con Daniel il nostro fratellone la nonna Elisa e papà Uglia vieni che ti ho messo tutto sul letto perché devi provare tutto quello che abbiamo comprato stamattina yeah yeah ok ecco voi un casino di vestiti a te ti ho preso qualcosina ma perché tu hai già tutto ti piace questo conflittino di mini? si amore è tuo no quelle sono sue e poi questi qua sono per te anche ma che belli morbidi anche questa no molla 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 tu a te le magliette le ho già comprate te lo ricordi quando siamo andati all'ocaibi? si ah ecco adesso però non dici il sedere sopra è quello mio guarda che bello eh quello lì però Vanessa io vorrei che tu lo provassi secondo me è un po' grosso eh non mi piace eh ho capito poi c'è la felpa sopra meglio si quello è vero con la felpa si adesso magari no ma secondo me va bene bellissimo che oca dove vai? allora Vanessa devi provarti tutto ti do 5 minuti non di più sembri l'omino Michelin tu non sai chi è l'omino Michelin ma noi della mia età si della mia annata avanti chi è? io avanti ma perché? cioè anche il gatto ti guarda male Anastasia anche il gatto non ci posso credere io non ce la posso fare con te Anastasia hai distrutto il sacchetto complimenti se io devo cambiare qualcosa dove lo metto? eh? dove lo metto? in questo no? esci fuori Anastasia eh Vanessa ti do 5 minuti per provare Anastasia tu rimani a Novara a Londra non vieni Anastasia hai provato la tuta che ti ho compresa oggi da Zara ma è bellissima è topina te la vuoi portare? in Inghilterra? ok puoi anche partire con questa direttamente che è comoda è caldo adesso è caldo ma quando partiremo che sono le 7 del mattino fidati che non avrai caldo in Inghilterra ci sono 10 gradi per me ci sta eh tanto noi atterriamo in Inghilterra e ci saranno 10 gradi belli ti vanno stretti? no vero? perfetto amore dai continuate così che poi decidiamo cosa portare non è che possiamo non è che possiamo portare il mondo scusa Anastasia non mi ero accorta che eri nuda non è che possiamo portare il mondo perché abbiamo solo lo zainetto poi sono solo 3 giorni provo anche questo e le faccio vedere poi si certo allora bimbe ci siamo abbiamo provato tutto tutto perfetto Isabella è di Isabella Isabella aveva dimenticato quest'estate al mare quella collana mettile in una taschina non quella non ce l'hai una cernierina poi al mio compleanno gli diamo un suo regalino che noi facciamo vedere esatto e li porto anche quello di Isabella avevamo preso un regalo di Isabella quando siamo stati in crociera ad aprile e ci siamo dimenticati di portarlo anzi di dargelo perché lei è venuta dopo no si è venuta a Pasqua va bene e quindi glielo daremo adesso e li porto anche quello di Aria io si Aria ha compiuto gli anni da poco quindi portiamo un altro regalo anche ad Aria e poi vabbè faremo quello che vogliamo bimbe avete scelto gli zainetti adesso la cosa importante è come volete partire noi partiremo da Novara alle 7 del mattino quindi farà molto freddo e atterreremo in Inghilterna dove farà ancora freddo che bello finalmente un po' d'aria fresca quindi Vanessa decidiamo come partire così li mettiamo da parte allora la maestra la zia dov'è a Londra no la zia non è a Londra è in un altro paese come si chiama St. Holborn St. Holborn perché ehi Google allora questo venerdì sarà il 13 ehi Google mamma mia partiamo di venerdì 13 venerdì a St. Holborn che gradi ci saranno? venerdì a 100 ci si aspetta una massima dove? a 100 senti Vanessa te lo dico io io lo dico io no 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 ok vai vai ehi Google quanti gradi ci saranno a St. Holborn? ma perché a St. Paul? venerdì a St. Paul ci sarà una temperatura una di 9 gradi senti non capisce te lo dico io Anastasia sei comoda? allora Vanessa io se fossi in te partirei con la tuta bianca no io parto con quella ok allora decidiamo e poi facciamo vedere i nostri cucciolini ok? no io lo so partiamo con quella di Minnie vuoi già partire con la tuta di Minnie? ti ricordo che tu hai delle tute bellissime nuove che abbiamo appena comprato con questa che è quella che avevo detto io vabbè sì con questa maglietta non so con la bianca con la bianca e la felpa voglio partire con questa guardate sì ok col completino di Minnie che ti ho comprato oggi va bene poi ti porti questi perfetto io li metto intanto sono già piegate va benissimo cerca di tenerli piegate ma moreno usi quello tu di zaino? sì ok con questo parti e poi Annie va benissimo tenere le tute che tanto sono comode che sabato passeremo tutto il giorno a Londra tutto il giorno? sì mentre domenica a pranzo saremo fuori a pranzo in un locale antichissimo di St. Holborn e poi la sera festeggeremo il compleanno di Vanessa quindi amore scegli un completino un po' elegante dai per domenica un vestitino ce l'hai un bel vestitino? sono appesi nell'armadio i vestitini dove c'è Vanessina? scelto per il vestitino questo ok per domenica hai scelto questo che valore? sei visto poco però tu per domenica metti il completo quello grigio elegante anche i pantaloni beige Vanessa no allora ah Vanessi stai portando tutto? sì ok quindi dimmi dai guardate così uno no e se un giorno fa caldo? posso fare uno poi due poi tre ok bravissima ma se un giorno fa caldo? non fa caldo amore no ascoltami potete portarvele un paio di magliette a maniche corte ah sì? è certo sì sì è quella così giusto per scrupolo il pigiama le mutandine e qualche paglia va bene sì amore però non è detto che tu la userai perché sabato comunque ci sono forse 13 o 14 gradi mentre domenica 11 quindi farà molto freddo io te la faccio portare giusto per quante magliette a maniche corte? ma io direi una una? sì Ani hai messo le calze? sì benissimo ora le mutande brava quattro mutandine vai a prenderle e perché tre calze e quattro mutandine? perché una mutanda sempre in più dai eh ok dai vai a prendere si poi ti porto un profumo? no non si può sull'aereo lascia stare e sul tuo zainetto? come? un zainetto deve essere molto piccolo ma tu c'hai dei piccolini dai potrebbe andare bene e voi non ve l'ho portati un profumo? no la valigia lo zainetto sì poi io me la faccio non ti preoccupare no lo zainetto anch'io eh vanessina tu hai finito lo zainetto vanessina sta finendo le ultime cosine e abbiamo guardato le temperature allora il giorno che partiamo dalle 6 a mezzogiorno ci saranno meno 2 gradi ma poi tanto torniamo qua in Africa si ragazzi in Africa fa caldissimo qua qua ci sono 31 gradi non so c'è da morire io non ce la faccio più ragazzi abbiamo ancora il condizionatore acceso al 10 di ottobre ma vi rendete conto? e sulle moriche? comunque ascoltatemi abbiamo portato tutto brava Vanessa le mutandine tenine una così la provi stasera dopo la doccia ok? va bene ragazzi io direi di salutare perché devo preparare la cena sono stanchissima e anche voi tu Vanessa devi fare i compiti eh sì sì devi fare inglese e matematica lo sai lo spazzolino l'hai già messo? sì va bene tanto poi ricontrolleremo tutto giovedì va bene? salutiamo i nostri cucciolini cucciolini e cucciolini iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video ciao partiamo? qualcuno vuole partire o vuole restare a Novara? è ora di alzarsi amore si parte partiamo bimbe andiamo in Inghilterra? arrivati in aeroporto a Malpensa eh sei contenta? eccitate? ciao vai che si parte tra poco yeah ora andiamo in bagno sai che prima sono andata con Anastasia e non riuscivo più ad uscire dal bagno mi stava venendo un attacco di panico ok e adesso vi faccio vedere perché io tentavo di aprire qua e non si apriva è rimasto schiacciato ed è giusto perché comunque schiacciando si blocca allora mi era venuta l'ansia e gli ho detto Anni non riesco più ad uscire poverina lei si è alzata di colpa dal gabinetto e poi ho detto senti devo ragionare calma allora poi ho schiacciato questo sì io sono un po' imbranata in queste cose mi viene subito l'ansia amore la faici le manine ok e adesso andiamo a cercare un attimino io e te una presa adatta all'attacco inglese ok e ti dico già solo la presa adesso mi devi dare una mano appesa con la parete ci sono delle parti elettroniche vedi se la trovi ti ricordi un po' com'era l'attacco inglese? no adesso guardiamo allora Avana c'è ma costa 50 euro e non la compro vediamo se l'azia ne ha uno ok? ok andiamo al gate dai andiamoci a sederci così quando dobbiamo imbarcarci siamo pronti amore guarda cosa c'è l'iPhone è il nostro adesso riprendo i biglietti perché ne ho le scatole piene guarda via almeno ci sono due gocce ciao Aereo arriviamo sapete che dove c'è la pia ci sono due gocce? in Inghilterra? sì amore ci siamo seduti sull'aereo io e papà e te siamo qui ciao papà e dall'altra parte abbiamo non Elisa tutto ok? ciao va bene per te stare in mezzo Vanessa? gliel'ho chiesto mi ha detto che va bene così ok va bene? una volta all'esterno gonfiatelo tirando la mania in caso non si gonfi ok cuccioline stiamo per partire i motori si sono accesi e per me questo è il momento di adrenalinoso che ci sia io amo l'aereo si sta dalla terra e qui ci vediamo per la pochissima proprio in quel momento ok Lani? Ani non si vede perché non si vede ma stiamo partendo eh vediamo se riesco a farlo vedere un attimino cucciolini vedete i cucciolini? siamo in movimento sì adesso si stacca papà mia cosa fai? allora Anastasia spieghiamo i posti io oppure li abbiamo già spiegati? io e te siamo saluti con papà mentre Vanessa con Daniel e la nonna Elisa senti 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 il motore sentite il motore che si accende che si accende che accelera Anastasia ci siamo? sì ci siamo senti i motori? sono al massimo tra poco ci stacchiamo da terra tra poco oh sì che meraviglia che meraviglia ragazzi simula bellissimo Vanessa come va? a Vanessa non piace molto eh lei preferisce stare di qua però c'è Daniel oggi e la nonna abbiamo le mani pinte guardate non vedo mannaggia bellissimo allora amore fammi vedere che cosa vuoi scrivere occhiare sull'aereo perché tu non hai fatto colazione e noi arriviamo a ora di pranzo voglio questo e questo kitkat quindi le patatine e le fringules sì ok e poi siamo arrivati no perché questo volo dura un'oretta in più rispetto a come quando andiamo in Sardegna ma solo un'oretta in più vuoi l'acqua? lì in amore eh con fringules e kitkat tu prendi sempre questo quando vogliamo vero? vero eh buono è freddo? adesso passiamo un po' l'aria mamma mia ma tu la mangi così la barretta dei kitkat non sta più un kitkat per volta? no il burger king tutti insieme così? oh wow piano piano eh oggi iniziano quattro quattro e il burger king o due è vero questo è doppio sì Anessina hai mangiato qualcosa? nulla? non hai fame oggi? ma scusa nel reparto hai mangiato? no vuoi stagione i miei maffi? ok nel fine si è addormentata eh tra poco arriviamo sì un'ora ragazzi una coloretta bellissimo sicuramente ma sì dai è un'esperienza ma ma adesso è fredda? no ho freddo? no no al mio maglioncino si è fredda si è addormentata? ok tra un po' la svegliamo quando inizia la discesa va bene? ok va bene tu non hai sonno amore? no? sei super concentrata con i giochini? sei super eccitata vero? sì mi raccomando questo che tu dormirai dalla zia fai una brava la sera sì quando è ora di andare a dormire si va a dormire? sì magari poi se possiamo mettere un po' potremmo un po' di film un film? in inglese? sì brava bello discesa effettuata si sente tantissimo dalle orecchie che stiamo andando giù e tra pochi minuti siamo con la zia siamo con la zia Samantha con la zia Dion e poi oggi pomeriggio Maxi sorpresa Isabella e Anna io mi voglio io mi voglio nascondere nel loro armadio cucciolini anche io perché lei magari arriva a casa apri l'armadio dopo un pochino ma noi poi usciamo dall'armadio piano piano togliamo gli strati e facciamo piano piano ma va non stanno cucciolini ascoltate sapete che Vanessa non mi ricordate quel video che Vanessa faceva i versi per ridere se non lo avete visto cucciolini vediamo uscire dall'armadio vi metto il link in descrizione di quando Isabella e Ari sono venuti in Italia noi ci siamo nascoste nell'armadio e Vanessa aveva una specie di singhiozzo stranissimo sembrava quasi riposseduta e non riusciva più a smettere di fare questo verso quindi ascoltate scriveteci nei commenti se voi preferite che noi andiamo a farle una sorpresa sulla strada quando escono da scuola o che ci nascondiamo in macchina nella macchina scusate a casa da qualche parte ok? scriveteci nei commenti va bene? per toccare terra dai senti 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 le ruote guardami tienimi la manina senti senti si le senti presa il pavimento ok recuperiamo la valigia di Daniel che è? io mi metto qua sopra dove dove che dove dove mamma io vado qua sopra e vai a farvi in giro amore sei felice? non ti ho potuto parlare molti in erio perché eravamo un pochino lontani ma sei felice? quanto? sei pronto a fare super scartoli? non vedevi loro fuori ci siamo e questa no no adesso arriverà era prima era qua prima e noi non c'eravamo e siamo in macchina finalmente verso casa e guarda un po' che strano guardate un po' il volante a destra benissimo adesso io me la farò sotto perché non ci capirò niente dai che tra pochi minuti siamo dalla zia Samantha ma non da Isabelle Aria perché dove sono Isabelle Aria? a scuola e quindi dobbiamo escogitare tutto dai adesso mangiamo e poi pensiamo a tutto di là c'è Daniel che guida invece fantastico arrivati a casa della zia questa volta guarda qua ciao bene bene pranzo finito tra pochissimo andiamo a prenderle vinto a scuola che sorpresona ok? tra poco sono già le 3 quasi le 3 ciao ciao e tu cosa stai facendo? stai giocando con la casa di Aria no le ho ordinata le hai ordinata tutta amore che brava sei contenta che tra un po' vedi la tua cuginetta? si giocate insieme? si hai freddo Ani? vuoi mettere adesso la felpina? no no? va bene andiamo a vedere la cameretta di Aria sono morbide? giocano cucciolini questa è la casa di Isabella e Aria che bella mi fatti i bascali? c'è gente sopra dove vai? qua dorme chi dorme qua? qua Vanessa qua qua esatto bellissima guardate vediamo tada tada e venite con il computer guardate wow mariaviglioso che cosa c'è amore? guardate questa è la stanza dell'anzia andiamo a vedere la stanza di Aria venite vediamo guarda dormiamo io ma è grandissimo io e Aria wow la stanza di Aria perché la stanza di Aria Isabella è l'altra ho capito guarda dormiamo io e Aria ma sei sicura? è grandissima questa stanza è è infatti wow di qua o di là mamma mia io dormo di qua o di qua mi sembra più grande questo letto rispetto al nostro o no? e guardate cosa c'è anche adesso non metterle in disordine il cagnolino amore rimettigli a posto è bellissimo così poi quando arrivare giocate insieme va bene? sì guardate anche qua che bello questo è lo scatto cosa facciamo? guardate guardate tipo il mio amore è vero tipo il tuo guardate guardate sì cosa? guardate questa è la camera della zia guardate che bello che bello guardate bellissimo ma è della zia questo vero? senti vado in bagno un secondo e poi andiamo va bene amore dai che ci dobbiamo preparare per la sorpresa questo è bellissimo che ci ha cambiato un leggo che si accende ma veramente ma hai visto io vado amore posso? guardate va bene dai 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 che vado dai siete pronte? stiamo andando a prendere aria eh? adesso vediamo di trovare un cespuglio dove nasconderci va bene? siamo scese e a pochi passi là in fondo c'è la scuola di aria c'è la scuola di aria contente? è arrivato il grande momento eh? adesso vediamo se riusciamo a nasconderci prima che esca aria perché altrimenti la troviamo già fuori che ci vede e guardiamo che faccia fa eh? e poi arriva Isabella da sola a piedi e lì dobbiamo nasconderci per forza eh? ok? ok ragazzi ci siamo quasi si sono sentite delle urla di bimbi che secondo me hanno terminato la lezione sono super felici un po' come da noi guardate che belle stradine guardate guardate che bella porta ci siamo ci siamo guarda la porta ma no beh nascondetemi qua nascondetemi qua 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 nascondetemi nascondetemi qua 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 vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua tu vieni qua vieni qua ok ragazzi ci siamo sta per uscire aria il problema è che guarda guarda lì la vedi quell'altra scuola là in fondo? sì da lì arriva Isabella quindi speriamo che esca prima aria e che non arrivi prima Isabella e se arriva un giro di insieme? no 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 speriamo di no in teoria no sono da miei compagni porti ok sono uscendo i bimbi ne ho viste una piccina piccina non è aria no non è aria ho sentito Anastasia Anastasia no no ok una bimba è uscita ecco la riva spostatevi spostatevi sta arrivando sta arrivando abbassati abbassati ecco amore ciao amore amore surprise è rivesta un po' così eh ragazzi adesso siamo nascoste qua dietro invece perché sta per arrivare Isabella Daniel ti devi abbassare sei troppo alto sì sta arrivando sta arrivando silenzio Daniel abbassati tu sei troppo alto ti vede sì 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 ragazzi arriva 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 ecco guarda c'è Roshan eccola eccola c'è Roshan c'è lo zio c'è lo zio di Isabella che ci fa da scudo pronti? dov'è? siete pronte? siete carichi? anche la zia ci fa da scudo non viene non viene sta davanti eh sì eh sta chiacchierando ha ragione pronti eh eccola 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 noo Isabella noo ci hai visti noo ci hai visti amore a daniel lo sapevo cosa state mangiando il muffin chocolate si amore buono allora adesso finite di fare merenda e poi diamo i regalini alle bimbe ok va bene ma c'è il carrettino con gelato vanessa quale gelato hai scelto con la nutella è buono vediamo buono ma cos'è cioccolato si sembra cannella dani come l'hai preso con la nutella anche te buono che questo diamo i regalini ad aria e isabella si aria one one present a cry baby one moment e questo come lei come come anastasia isabella ti aiuta la nonna che bello che è scritto isabella sempre per isabella ti anisa e per isabella un completo che belli belli questi insieme ti piacciono belli è che belli 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 il compleanno di valestina cos'è amore guarda wow una paletta una paletta ma come va un pennello questo per questo paletto ah ecco vedi un altro pennello per la bruce la bruce la rosetta questa è la pochetta bellissima l'avevi dimenticata al mare grazie e questo è per anni pensierino anche per anni un'altra pochetta per te vediamo vediamo posso vedere anch'io oh che belli ma sono perfetto c'è un'altra cosa che bello per la un gli smalti anche questo è un smalto ma sono rossetto mamma mia e come si dice che entrate due gemelline fatevi vedere senti anastasia ma andiamo nella casetta nostra un attimo tu vuoi stare qua con aria si lo so allora vado io un attimo con papà e la zia samantha e la nonna qua ok vani ascolta noi andiamo a mettere le nostre cosine voi vi state truccando guarda che questo è qua è tuo senti poi guarda la felpa che ti ha regalato lo zio lo sean che è bellissima e corta bella e corta la felpa zio lo sean present for vanessa ok così poi lo ringrazio va bene è già fuori l'ho già tirata fuori ci vediamo dopo allora non fatevi troppo belle ciao allora bimbe tra poco usciamo adesso vado su a vedere cosa sta facendo vanessa e nastasia concludiamo il video scusa vanessa e isabella e poi ci vediamo domani con un altro video con belle aree ok siete vestite fatevi vedere un attimo ma ma vedo doppio ma siete vestiti uguali bellissime isa fammi vedere wow sei vestita come vanessa ragazzi ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video ciao 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 è arrivata mezzanotte e le campane sono in festa voglio spiare pappo natale non ci vedo niente di male presto nastasia corriamo giù mamma jefe